Bentornati ad Art Incipit, la rubrica podcast di direzione Itaca dedicata al mondo dell'arte a cura di Riccardo Coppola, che ha l'obiettivo di anteporre alla critica di una mostra il suo racconto come fosse un incipit costituito dalle parole introduttive della voce ufficiale del curatore o delle istituzioni internazionali, seguito da un breve resoconto della prima fase dell'esperienza intellettuale e sensoriale del nostro critico. L'incipit che vi presentiamo oggi è quello di Copernico Oggi, l'arte di rivoluzionare la scienza, mostra visitabile presso il Centro Culturale Mitreo Iside a Roma fino al 22 dicembre 2023. L'approdo alla prima sala della mostra implica un'immersione in questo particolare contesto espositivo, intrinsecamente legato al proprio territorio. Ci troviamo nel cuore del quartiere corviale ai piedi del cosiddetto serpentone, complesso residenziale monumentale ed emblema delle mille difficoltà, ma anche dello spirito comunitario della periferia romana. Alle pendici di questa chilometrica architettura in cemento sorge una piccola oasi di speranza dalla porta sempre aperta ai suoi vicini. Il Mitreo, centro culturale ed artistico, spazio espositivo ma anche teatrale, musicale ed educativo grazie a diversi cicli di corsi artistici proposti. La vocazione sociale e multidisciplinare dello spazio è riscontrabile ed evidenziata da una sorta di anticamera alla galleria espositiva vera e propria, che fa da entrata la struttura e raccoglie varie tracce dei progetti culturali realizzati in passato o attualmente in corso. Cercando la giusta direzione per la mostra, intercettiamo locandine di vecchie esposizioni, qualche opera storica, ma tra l'altro anche il materiale necessario per iscriversi al corso di yoga della struttura. La sensazione è quindi di sapere ancor meno a cosa si sta andando incontro, un ulteriore stimolo al naturale piacere della scoperta. Superato questo primo varco, lo spazio ci sorprende per la sua profondità e versatilità. All'inizio del percorso espositivo, infatti, ci ritroviamo dinanzi ad una galleria sviluppata in lunghezza che lascia intravedere sullo sfondo un'altra sala sviluppata a mezzaluna attorno ad uno spazio teatrale centrale. E da proposito di Astri, l'omaggio a Copernico è percepibile fin dalla prima occhiata. Siamo infatti accolti da due serie di opere che modulano lo spazio di questa prima galleria con un ritmo regolare, creando un dialogo ardito ma azzardato, sicuramente propizio ad evocare degli elementi cosmici o propriamente relativi all'esperienza umana sulla Terra. Da un lato si possono osservare le fotografie di Arcadius Shedek, lastre in plexigas, su cui, grazie ad un particolare allestimento riservato, delle pupille di diversi modelli sembrano fluttuare nel mezzo della sala, come dei corpi celesti all'interno del sistema solare. Dall'altro, i quadri di Fabio Massimo Caruso propongono un sistema linguistico alternativo, quello del segno pittorico, attraverso centinaia di pennellate bianche e nere che rivendicano la propria individualità, la loro capacità comunicativa, nonostante siano ben incastonate all'interno di una composizione dalla marcata struttura geometrica. L'incontro-scontro tra queste due serie di opere costituisce un ottimo preludio alla diversità di forme e colori che si andranno ad incontrare nel resto della mostra, nonché un'efficace anteprima del filo conduttore della mostra stessa, il contatto tra arte e scienza, così ottimamente enunciato, ma ancora non esplorato nel profondo in questo incipit del percorso espositivo. A tal proposito, possiamo rifarci direttamente alle parole di Riccardo Coppola nel suo testo introduttivo a questa esposizione. In occasione del 550esimo anniversario della nascita del famoso astronomo Nicolai Copernic, Nicolò Copernico, Mitreo Isidearte contemporanea ha il piacere di accogliere nei suoi spazi la mostra collettiva Copernico Oggi, l'arte di rivoluzionare la scienza. È la prima tappa di una manifestazione itinerante a respiro internazionale che proseguirà a Chilce, Polonia, grazie alla collaborazione dell'Università Jan Kociakranowski, sede del secondo atto di questo progetto espositivo. La mostra si ispira pertanto all'impatto storico-culturale della teoria eliocentrica copernicana che poneva il Sole e non la Terra al centro dell'universo al fine di sondare ed esporre i risultati delle ricerche che fondono creatività e scienza al giorno d'oggi. In altri termini, l'obiettivo è trascrivere l'essenza dell'eredità di Copernico in diverse forme del linguaggio artistico contemporaneo che mostrino una relazione interconnessa alla scienza, radunando una comunità di artisti provenienti da contesti culturali e scene artistiche differenti, tra cui una serie di inviati originari della Polonia, terra natia dello stesso Copernico, si cercherà dunque di omaggiare la ricerca copernicana nella sua universalità e attualità. Arte e scienza del resto si concatenano e si condizionano a vicenda molto più di quanto in prima battuta siamo portati a credere. Esse sono connesse innanzitutto da un valore primordiale, il valore umano, la cifra culturale. Gli spazi in cui si muovono sono numerosi e tendono sempre alla reciprocità interdisciplinare. Basta dare un rapido sguardo alla storia dell'arte per rendersene conto, dall'arte antica all'epopea modernista fino al contemporaneo e la stretta relazione con i nuovi media. Per un lungo periodo della storia i due concetti confluivano persino nello stesso termine. Tecne, radice non a caso di una parola chiave per entrambe le discipline, cioè tecnica. Ed anche nella visione contemporanea dell'arte il legame con la scienza resta quindi fortissimo. L'aspetto teorico-concettuale costituisce infatti un caposaldo di entrambi i campi di ricerca. Dunque, arrivando ai giorni nostri, qual è la posizione dell'artista contemporaneo davanti a questo doppio polo, così simile e così diverso, ma comunque accomunato dalla forza della creatività? Le rivoluzioni copernicane del contemporaneo, dall'informatica alla fisica quantistica, dalla medicina alla robotica, hanno una velocità di impatto nella società inedita in termini di rapidità. I progressi scientifici e tecnologici cambiano continuamente e sempre più rapidamente i paradigmi della realtà e portano nuovi pionieri dell'arte a rivoluzionare lo status quo. 150 anni dopo Copernico siamo costantemente alla ricerca di nuove prospettive. In tal senso, in questa sede desideriamo accogliere le voci di vari artisti internazionali invitati a riflettere e a condividere creativamente la propria visione sul tema, con la coscienza che, in fin dei conti, l'arte è anche scienza e la scienza è anche un'arte. Sono Gianni Caruso e vi ho presentato dalle note di Riccardo Coppola l'incipit della mostra collettiva Copernico Oggi, l'arte di rivoluzionare la scienza. Mostra visitabile presso il Centro Culturale Mitreo Iside a Roma fino al 22 dicembre 2023. Grazie a tutti.